Benvenuti, oggi parleremo di una nuova funzionalità di Tableau 2020.1 che sono le visualizzazioni animate. Le visualizzazioni animate permettono che azioni, quali ordinamento, applicazione di filtri e aggiunta di campi, possano animare la visualizzazione in dashboard o su un singolo sheet. Perché sono utili le visualizzazioni animate? Perché danno una spinta all'interpretazione dei dati e aiutano a tracciare passaggi logici che sono alla base dell'evoluzione dei dati. Per guardare insieme le visualizzazioni animate ho preparato qui tre esempi, utilizzando esempio supermercato che si trova nella versione 2020.1 di Tableau. Il primo è un bar chart sulle sottocategorie per la vendita. C'è un trend vendite annuale e uno scatter plot vendite profitto. Come si utilizzano le animazioni? Basta andare su formato, animazioni e alla sinistra si aprirà questo pannello dove possiamo scegliere se attivarle, disattivarle, la durata e lo stile. Per default i lavori che abbiamo aperto per la prima volta con questa versione qui di Tableau la 2020.1 avranno l'animazione attivata. Tutti gli altri workbook su cui invece abbiamo lavorato su versioni precedenti lo avranno per default disattivata. Ora quindi attiviamo la nostra animazione, possiamo scegliere la durata. Ci sono quattro durate preimpostate e una personalizzata. La personalizzazione tra l'altro può andare da 0.1 secondo a 10 secondi massimo. E possiamo scegliere lo stile. La differenza tra i due stili è che lo stile sequenziale ordina a Tableau di compiere tutti i passaggi necessari per la transazione in maniera sequenziale appunto uno dietro l'altro. Mentre lo stile simultaneo avremo una transazione simultanea di tutti gli elementi in questione. Nella prima parte, nella parte alta di questo pannello dell'animazione, settiamo l'animazione per tutta la cartella di lavoro, mentre nella parte bassa solo per il foglio selezionato. In questo caso la vendita per sottocategoria. Iniziamo quindi ad impostare una durata che vogliamo. Possiamo partire con una durata di due secondi molto lenta e lo stile simultaneo. E vediamo quindi come funziona. Proviamo con il sort. Quindi questo è quello che succede facendo il sort con lo stile simultaneo. Guardiamo subito la differenza con lo stile sequenziale. Dove invece abbiamo step uno dietro l'altro per concludere la transazione. Per capire meglio i due stili proviamo a dare una durata personalizzata di ad esempio 10 secondi. E partiamo con lo stile simultaneo e proviamo a togliere una sottocategoria. Quindi vedete che effettivamente si muove con un tempo massimo di 10 secondi perché appunto la durata è il tempo che noi diciamo a tablò di impiegarci per compiere la transazione. Che quindi è in maniera simultanea per tutti gli elementi che sono in questo momento in visualizzazione. Vediamo invece la stessa cosa con uno stile sequenziale. Proviamo a rimettere questi elementi e vediamo che in questo momento si stanno spostando le barre. Si crea lo spazio per questa nuova sottocategoria che vogliamo inserire e ecco qui che appare la nostra sottocategoria. Il tempo di 10 secondi effettivamente ci penalizza in questo caso. Ripetiamo questa prova con un secondo, lento. Siamo sullo stile sequenziale, proviamo a eliminare alcune sottocategorie, raccoglitori e sedie. Vedete che prima scompare la barra e poi si riuniscono le altre. Mentre se proviamo a inserire lo stile simultaneo e proviamo a rimettere alcune di queste, vedete che invece il tutto avviene in maniera simultanea. Nel secondo esempio invece vedremo come le animazioni possono aiutarci a comprendere un trend. In questo caso noi abbiamo anno della data ordine nelle colonne e come altra misura abbiamo la somma delle vendite. In questo caso appunto togliendo semplicemente una sottocategoria in realtà vediamo che la shape della nostra linea rimane più o meno invariata. Proviamo quindi ad aggiungere la categoria come colore per spezzare la linea e già in questo modo vediamo che togliendo una sottocategoria effettivamente questo studio ci dà un'idea effettiva di quello che sta succedendo a quella specifica sottocategoria. Possiamo provare a mettere un dettaglio un po' più basso della data ordine. In questo caso mettiamo il trimestre, possiamo provare a metterlo continuo e vediamo appunto che adesso questo trend ci dà effettivamente l'idea, una comprensione un po' più approfondita di come i nostri dati si stanno muovendo lungo i trimestri. Vediamo nell'ultimo esempio come le animazioni possono effettivamente navigare negli anni. Quello che faccio quindi, innanzitutto specifico che qui stiamo vedendo le vendite sul profitto di tutte le sottocategorie, in questo caso ad esempio questa che è librerie, il colore è dato invece dalla categoria di appartenenza e la grandezza dal tasso di profitto. Allora, quello che possiamo fare in questo caso è modificare la nostra data ordine che visualizziamo come filtro con questo slider in mese, ad esempio. Non in questo modo, magari possiamo provare a farlo così. Ne visualizziamo tutti. Ok. E lo spostiamo in pagine. Quello che facciamo adesso è per rendere consistente questa visualizzazione nel corso degli anni, mettiamo una table calculation su un run in total, il totale parziale. Lo facciamo utilizzando la data ordine per tutte le misure, quindi totale parziale e data ordine. Lo facciamo anche sul tasso di profitto. Totale parziale sulla data ordine. Iniziamo, in realtà, quello che vorrei fare è appunto partire da dicembre 2019 andando indietro nel tempo con questa animazione. Qui possiamo decidere la velocità, ora qui siamo su veloce, cioè normale e lento. Qui possiamo andare avanti nel tempo o indietro e quindi facciamolo partire. Ecco come la nostra animazione funziona nel caso di uno scatterplot. Quindi in questo caso vedremo tutti i punti che si avvicinano sempre di più verso lo zero. È una funzionalità carina. Grazie a tutti per l'attenzione.